Io sono contento della prestazione dei ragazzi, secondo me ha fatto una buona partita, una buona gara nonostante avessi fatto abbastanza un massiccio turnover stasera con tanti giovani in mezzo al campo. Abbiamo approcciato bene, abbiamo avuto le occasioni, abbiamo tenuto molto il campo, molto molto bene, abbiamo concesso poco. Poi abbiamo fatto questo piccolo errore alla fine del primo tempo che abbiamo subito il pareggio dove avevamo questa palla sulla destra con Di Roberto, se la scarichiamo nella sovrapposizione con Spaltro lì abbiamo perso la palla, poi siamo andati al recupero con Matera, nonostante poi che secondo me forse se faceva fallo pulito prima, un fallo tattico, magari non prendevamo nemmeno la ripartenza. Però questo ci può stare. Perché nel momento in cui lui ha messo dentro la qualità della squadra, giocatori che sono bravissimi come Mikoski, Kajaric, ci ha creato difficoltà specialmente sulla fascia destra dove avevamo il ragazzino 99, poi San Domenico che è un attaccante, si è sacrificato molto nella fase di non possesso, nella fase difensiva. E lì abbiamo avuto qualche problema, sicuramente. Ma quando poi metti i giocatori di qualità che hanno una certa dimestichezza anche nel palleggio ci può stare, ci può stare questo assolutamente. Perché poi l'Avellino è una buonissima squadra, ha dei buonissimi giocatori. Però noi comunque abbiamo avuto le occasioni per fare gol il secondo tempo. Anche sull'1-1 ne abbiamo creati, abbiamo preso la traversa con il tour dell'Oazi, abbiamo avuto quella là con Bulevardi, abbiamo avuto quella là l'ultima con Adessi che si mette la palla dietro, è stato un po' egoista lì. Ma diciamo che noi abbiamo fatto oggi una buona partita e io sono contento, sono contento. C'è stata una bella risposta. È un momento anche che appena facciamo un errore prendiamo gol. Poi c'è stato l'episodio del rigore, vabbè, siamo stati un po' ingenui, un po' polli. Sì, infatti perciò stasera poi a un certo punto ho tolto Russotto, ho cercato di preservare Matera, ho tolto San Domenico. Oggi abbiamo giocato con unico centrale di ruolo che è Matino, che tra l'altro poi domenica è anche squalificato. Il ragazzo del 99 Polito ha fatto secondo me una grande gara insieme a Spaltro e a Galfano, tutti e due ragazzini, insomma, tutti e due, 2.000, uno 2.000 e l'altro 99. No, è normale che il campionato per noi è più importante, però io quello che mi aspettavo stasera era questa risposta dai ragazzi, dopo due partite che secondo me abbiamo fatto male, malissimo, proprio sotto l'aspetto anche dell'approccio, della cattiveria. Non siamo stati da cavese in queste due partite. Domenico abbiamo una partita difficile, una partita tosta, dove incontriamo una squadra che è stata costruita per, non lo so se per vincere, ma sicuramente per stare nelle prime quattro, sicuramente. Ma Bruno oggi mi è piaciuto, mi è piaciuto, ha fatto una buona prestazione, anche se secondo me è stato anche l'assetto tattico che ho fatto oggi nel giocare 4-4-1-1, mettendo Russotto sotto l'Oazzi, che oggi Russotto ha fatto bene. Credo che quello sia il ruolo più congeniale a questo giocatore, perché magari non gli dà i compiti difensivi né ritornare, invece là c'ha degli strappi che può mettere la squadra avversaria in crisi. Oggi Bruno ha fatto bene, a parte il gol, ne poteva fare anche altri due, perché la traversa, poi alla fine del primo tempo dove ha fatto una grandissima azione, poi ha tirato sopra la traversa, però credo che oggi l'Oazzi ha fatto una buona gara. Beh, ti devo dire la verità, io anche con Gnoffo, io ho visto alcune, prima di giocare contro di lui, avevo visto tante partite, l'Avellino ha fatto bene, aveva fatto bene, a me mi piaceva anche l'Avellino. Forse quello che gli ha dato il mister, gli ha dato Capuano, credo, la sua esperienza, la sua cattiveria, la sua voglia di fare sempre bene, inculcare ai giocatori la sua manità di essere aggressivi e magari non far giocare alla squadra. Però io sinceramente, certo, adesso c'è una squadra che in questo momento con una preparazione anche più avanti rispetto a quella che aveva Gnoffo, credo che questi sono dei vantaggi, quindi nel giudizio, secondo me, tutti e due positivi sotto questo aspetto, che anche con Gnoffo mi è piaciuta, almeno l'Avellino, vista a giocare. Noi sicuramente possiamo fare meglio, anche se noi abbiamo un attimino il reparto arretrato e credo che forse abbiamo in questo momento molte difficoltà, tra infortuni e giovani stiamo un po' in affanno. Credo che noi, forse ci mancano, ecco, queste due partite forse ci mancano una vittoria, se avessimo fatto una vittoria a Corrieti o la partita o a Leonzio, a quest'ora avremmo parlato di un'altra cavese, però in questo momento qua ci dobbiamo stringere, gennaio è lontano, questi sono i calciatori che sono bravi e da questi dobbiamo trarre in meglio, perché solo così ci possiamo tirare fuori, anche se qualche volta non giochiamo da dietro, perché oggi pure oggi, per esempio, il secondo gol, il rigole l'abbiamo preso per una nostra cavolata, perché abbiamo voluto giocare per forza la palla in uscita e invece di magari il portiere la poteva mettere su, invece abbiamo perso quella palla in mezzo al campo e poi c'è stato il rigore sul cambio gioco. Noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo crescere sotto questo aspetto dell'esperienza, un po' della cattiveria.